Allora Dragan, prima di commentare questa terza vittoria in Superlega che ci tiene in vetta la classifica, voglio sapere quanto eri emozionato oggi prima di questa partita, dopo tre anni a Padova, visto che hai giustamente abbracciato tutti i tuoi ex compagni. Sì, sì, ero felice di ritrovare alcuni dei miei ex compagni di squadra che mi hanno accompagnato in un percorso memorabile per me. Sono molto legato alla Pallavolo Padova, sono molto legato alla società, ai dirigenti, ai giocatori con cui ho giocato, quindi stamattina ci siamo abbracciati, ci siamo abbracciati dopo la partita, c'è un bene sano, poi è normale che quando si gioca ognuno vuole vincere e basta, quindi è stata emozionante. Senti, adesso parliamo della partita perché l'abbiamo giocata bene, 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 soprattutto fase break, muro difesa abbiamo toccato tantissimo, difeso tantissimo e sbagliato poco in contraattacco. Sì, è vero, è una cosa che a volte, diciamo che il muro difesa funziona quasi sempre, però il contraattacco non funzionava, oggi invece abbiamo anche aggiunto il contraattacco, è una cosa che dimostra che in palestra lavoriamo con l'idea giusta e con umiltà, perché sappiamo riconoscere dove magari abbiamo delle lacune, sono contento che col lavoro poi riusciamo a vedere i risultati durante la partita. Credo che abbia funzionato un po' tutto oggi, abbiamo dato una bella dimostrazione di qualità, ci tenavamo tanto perché l'ultima uscita in casa non era stata così, quindi il lavoro, anche se non riusciamo ad allenarci tanto perché si gioca sempre, dà i frutti, questo vuol dire che bisogna lavorare. Ecco, a proposito del fatto che si gioca tanto, fra quattro giorni siamo a Verona, ti ci devo portare, anche se l'ultima palla è caduta da poco, partita difficile, quella di domenica dove andremo a difendere questo primo posto ovviamente provvisorio, una squadra che ha già vinto contro Trento, insomma violando il palazzetto di Trento, partita difficile, palazzetto bello per noi, ovviamente dopo la vittoria in Supercoppa, prima partita difficile. Bello fino alla Supercoppa, poi vedremo, no no, Verona è forte, è rientrato Giaschke che secondo me è un giocatore fantastico, che dà grande equilibrio, molto completo e insomma poi ha altri giocatori, Kasinski, Bouaier, ha tanti giocatori buoni, però devo dire che poi per battere Trento ci vuole tanto di più, quindi vuol dire che questa squadra ha tanto nel bagaglio e sarà dura batterli in casa. Dovremmo offrire una prestazione, se si può, ancora migliore di questa, perché di fronte avremo una squadra che sta giocando bene e cercheremo anche di recuperare perché è veramente dura giocare ogni tre giorni, di preparare bene la partita, consapevole del fatto che domenica è dura, molto dura.